All'MD di Castrovillari trovi grande convenienza, prodotti sempre freschi e tutti i giorni la qualità migliore al minor prezzo. MD di Castrovillari, via padre Francesco Russo, dove la spesa costa meno. L'informazione su Ionica Radio è sempre con te. Ogni giorno 7 giornali radio locali e 7 edizioni nazionali. Approfondimenti su politica, cronaca, attualità, lavoro, spettacolo, sport. Gret, su meteo e viabilità, le rubriche di economia e l'organizzazione del territorio, e ogni mattina la rassegna stampa dei principali quotidiani locali su Ionica Radio. Tutto la chiana e il divertimento, dove vuoi. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Ionica Radio.